oh alleluia l'unico che ci può salvare dalla condanna eterna si chiama gesù cristo ascolta città dievoli cara donna caro uomo che stai passando stai ascoltando l'unico che ti può salvare dall'inferno dalla morte dalla perdizione si chiama gesù cristo tu hai bisogno di gesù cristo tu hai bisogno di convertirti a gesù cristo tu hai bisogno di convertirti al vangelo questo è il messaggio che siamo venuti a predicare anche qui nella provincia di salerno convertitevi al vangelo prima che venga il giorno del giudizio abbandonati i vostri idoli abbandonati i vostri peccati abbandonati i vostri cattivi desideri e convertitevi al vangelo di cristo alleluia perché l'unico che ti può salvare si chiama gesù cristo il denaro non ti può salvare la politica non ti può salvare la religione non ti può salvare alleluia il vaticano non ti può salvare le statue non ti possono salvare alleluia nessuno ti può salvare solo gesù amena alleluia perché chi è morto alla croce per noi chi è morto alla croce per te rispondi alleluia nel tuo cuore chi è morto alla croce del calvario per la tua anima chi è morto sono morti politici è morto buddha chi è morto è morto san gennaro chi è morto alla croce è morto gesù alleluia a me gesù è l'unica salvezza per la tua anima caro uomo prega gesù chiama gesù apri il tuo cuore a gesù alleluia digli alleluia gesù ho bisogno di te tu sei il re dei re il signore dei signori cambia la mia vita perdona i miei peccati se tu non accetti gesù nel tuo cuore non puoi entrare nel regno dei cieli gesù disse beati puri di cuore perché vedranno dio ma se tu hai un cuore contaminato dal peccato se tu hai un cuore fino di peccato pieno di odio pieno di malvagità come fai a entrare nel regno dei cieli come vai gesù vuole purificare il tuo cuore alleluia come ha purificato me anche io prima avevo un cuore contaminato bevevo alcol fumavo marihuana portavo cortelli addosso se non mi guardavo un po storto mi litigavo ero un malvagio ero un peccatore ero un ribelle ma posso dire che gesù mi ha salvato mi ha liberato e mi ha perdonato tutti i miei peccati amén alleluia gloria al signore gesù ti libera chiama gesù amén amén gesù tu va bene in bocca in nome del signore alleluia 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 perché gesù è la speranza cari dievoli grazie gesù è il messia che sta per ritornare dal cielo a rapire la sua chiesa a a a a a a Grazie a tutti.